La pediatria di Teramo sarà tra le eccellenze italiane, grazie ad un accordo tra l'ospedale Bambino Gesù di Roma e l'ASL Teramana, una sinergia che migliorerà la gestione delle emergenze e soprattutto dell'assistenza neuropsichiatrica ai piccoli pazienti di Teramo. Una sinergia sottoscritta dalla struttura romana solo con altre tre ASL in Italia, un risultato importante per il direttore generale Maurizio Di Giosia. La pediatria Teramo sta attraversando un momento un po' particolare e soprattutto vista le nuove esigenze dei bambini a causa anche acuite dal lockdown, dobbiamo salvaguardarne la salute dei ragazzi, quindi non c'è la cosa più bella che affidarsi a una struttura di livello nazionale e internazionale, quali i bambini Gesù, li dobbiamo ringraziare anche perché loro sono resti nelle convenzioni, ne hanno solo tre in Italia, noi siamo la terza ASL con cui si convenzionano e l'abbiamo scelto in questa prima fase per la neuropsichiatrica infargile e per il pronto soccorso pediatrico. Grazie a illuminare i loro professori ci metteranno a disposizione per formare i nostri operatori in queste discipline per implementarle nel nostro comio. E intanto si infiamma il dibattito in città su dove costruire il nuovo ospedale provinciale di Teramo. Il comitato dei quartieri insiste sulla ristrutturazione del vecchio Mazzini a Villa Mosca e promuove un referendum cittadino. L'ASL si dice attenta alla discussione ma anche pronta a decidere solo dove sarà meglio per la sanità. La libertà è di tutti essenziale che noi facciamo la sanità. Adesso stiamo combattendo la pandemia ma dobbiamo pensare anche alla sanità del futuro che è il nuovo ospedale perché abbiamo visto che quello che abbiamo non è più idoneo al futuro, non lo è idoneo per tante situazioni strutturali, organizzative. Non è più l'ospedale, bisogna fare l'ospedale del futuro, ai nostri fili dobbiamo nascere qualcosa. Ma anche loro fanno il referendum. Noi dobbiamo vedere quali sono gli spazi idoni per proteggere l'ospedale. Stiamo valutando tutte le situazioni, altrimenti l'ASL sceglierà il luogo più idoneo per fare l'ospedale in base alle proprie esigenze che si vuole dare alla sanità del futuro. Dopo bisogna vedere se i cittadini vogliono la sanità o vogliono andare dietro il referendum. Noi vogliamo dare una sanità nuova, una sanità efficiente, una sanità che risponda alle nuove esigenze. Dopodiché si vedrà se il mazzini è idoneo o si farà il mazzini, se no si sceglierà l'area più idonea per farlo e il mazzini verrà riqualificato per altre attività sanitarie.